Ho deciso di esporre il cartello di SOS Venezia perché essendo un veneziano nato e vissuto da sempre qui, mi sono accorto che la mia città sta decadendo sempre di più e vedo che nonostante i proclami tutte le cose vanno sempre a peggiorare invece che a renderle migliori. Come Stefano Barina stanno iniziando a fare imparecchi. Striscioni, cartelli e bandiere con l'appello SOS Venezia spuntano su finestre, balconi e vetrine di negozi e ristoranti mentre borse con lo stesso messaggio cominciano a circolare per Calli e Campielli. L'iniziativa, che unisce il FAI, Fondo Ambiente Italiano, Italia Nostra, Venezia.com, Gruppo 25 Aprile, Viva San Marco e Movimento Autonomia Venezia, si associa al conto alla rovescia verso la sentenza UNESCO di fine luglio che potrebbe inserire la città nella lista nera dei siti patrimonio dell'umanità in pericolo. Noi vogliamo utilizzare questo periodo per sensibilizzare non solamente l'UNESCO ma l'intera comunità mondiale, nazionale ed europea, per i problemi di Venezia che sono sempre quelli degli ultimi decenni e invece che migliorare le soluzioni peggiorano costantemente. Nessuno sembra accorgersene, nessuno sembra pensare ai cittadini veneziani. Erroneamente si tende ad associare l'allarme lanciato dall'UNESCO unicamente con il passaggio delle grandi navi da crociera a ridosso della città ma i motivi per cui Venezia è considerata un patrimonio dell'umanità a rischio sono molti di più. Magari fossero solo le grandi navi, è vero che è la parte visibile dell'iceberg ma il rapporto UNESCO parla anche di spopolamento della città, di artigianato e parla anche dello skyline, le torri grattacieli sulla gronda lagunare. Quindi noi siamo in controtendenza rispetto alla raccomandazione UNESCO anche già soltanto per il grattacielo in Viale San Marco che è stato oggetto di delibera un paio di settimane fa.